La cosa importante che devi capire. Sei dei che determini la tua esistenza. Sei dei che determini il tuo futuro. Avevi tre anni, mi hai detto, ti rilinco io i mondiali col Brasile. Hai promesso. Tu per noi sei come Maradona per l'Argentina. Dove finiscono le mie capacità, inizia la mia fede.